Salutiamo l'ingresso in campo dei direttori di gara Il primo arbitro è Armando Simari da Milano, grazie e buon lavoro Il secondo arbitro è Rocco Brancati di Città di Castello, grazie e buon lavoro Il resto della più arbitrale, Baldo Luciani di Chiaravalle è il terzo arbitro Al video c'è che c'è Luca Porti di Urbania, il segnapunti è Adriano Rispoli di Fano Buon lavoro a tutti e passiamo alla presentazione dei sestetti iniziali delle due squadre Siamo naturalmente dagli ospiti della VIVU Verona In campo con il numero 5 Maxim Staposchkov Il numero 9 Nuri Keita Il numero 11 Alex Grozdanov Il numero 13 Luca Spirito Il numero 18 Leandro Mosca Il numero 19 Rocco Bozic Il numero 20 Marco Gaggini Il primo allenatore Radossi Stoicev e il vice allenatore Dario Simoni Pronti per i nostri ragazzi? Con il numero 21 Mattia Il numero 21 Mattia Il libero con il 7 Fabio L'allenatore Gian Lorenzo Chico Il vice allenatore Romano Eccoli i nostri ragazzi